Ciao a tutti i miei legionari, sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Geopolitical Simulator 4 Power and Revolution con la nostra meravigliosa Italia guidata dal meravigliosissimo Principe Cesare Borgia meravigliosissimo, non si può sentire ma non importa in ogni caso vi ringrazio per i vostri commenti e vi invito a continuare così perché come sapete sono fondamentali oh e detto questo possiamo partire la decana della nostra nazione ci dice sei davvero un grande sei un tipo in gamba, oh brava, grazie, grazie sono contento il fronte liberale dell'Italia vuole manifestare? sindacato dei professori e dei ricercatori, manifestazione contro la politica di assistenzialismo del governo cioè io avevo appena dato posti su posti e avevo rompete la minchia certo che la gente non è mai contenta quando mantieni la parola rompono le palle, quando non la mantieni rompono le palle e che barba, che barba avete dato prova di una grande determinazione per ridurre le ineguaglianze e le ingiustizie sociali grazie a voi i più fragili hanno ritrovato la speranza e l'orgoglio grazie prego, prego ma ragazzi questa è l'ora delle decisioni irrevocabili sì, cheat e adesso ci toccherà fare un po' di scelte impopolari che però serviranno per migliorare l'economia tra l'altro ringrazio naturalmente quelli di voi che hanno commentato nello scorso video e in particolare uno di voi mi ha detto in realtà me l'avevate già detto però mi avete ribadito che la tassa sulle transazioni finanziarie ok io la sto facendo può servire ma devo starci molto molto attento tra l'altro non l'avevo alzato ulteriormente ossia si l'avevo portato a 0,225 dovrò poi a poco a poco riabbassarla fino allo 0 perché se no rischio che la nostra borsa va a farsi benedire e rischio anche di impantenare la nostra crescita quindi tranquilli ragazzi ci starò attento il più possibile in ogni caso adesso andrò a fare un po' di decisioni impopolari tra cui conducono un'operazione per regolarizzare la situazione degli immigrati illegali allora per una parte degli immigrati illegali in base ai criteri di integrazione per i clandestini che hanno vissuto sul territorio per più di 5 anni per tutti io ragazzi lo farei per quelli che hanno vissuto sul territorio per più di 5 anni perché voglio dire se hanno vissuto per 5 anni in Italia a sto punto regolarizziamoli perché non ha senso che rimangano immigrati illegali tra l'altro ne abbiamo un bel po' se non sbaglio ne abbiamo un bel po' numero di immigrati illegali stimati sono 364.000 ragazzi sono tanti sono davvero davvero tanti quindi almeno in parte li andiamo a regolarizzare non tutti però quelli che hanno vissuto sul territorio per più di 5 anni e naturalmente anche quelli sotto immagino lo andiamo a fare vediamo un po' le opinioni in realtà sono abbastanza favorevoli pensavo molto peggio tra l'altro ho fatto passare tutto non avrei voluto farlo così secco però vabbè ormai l'ho fatto e ok questa mostra ci siamo un'altra cosa che voglio fare è togliere la tassa sui licenziamenti che voi direte però serve per comunque coprire per finanziare il servizio pubblico dell'impiego ok però pesa sulle aziende è abbastanza inutile ragazzi quindi io la voglio abrogare essenzialmente costa anche poco però rallenta la crescita ma se non me la farebbero non me la farebbero abrogare davvero davvero e perlomeno diminuire ok diminuire sì la potrei portare al 5% al 2.5 essenzialmente non vogliono che la tolga dai la porto al 2.5% però va bene poi tassa sull'inquinamento industriale anche qua vabbè io questa qua la potrei aumentare leggermente ma sarebbero talmente pochi gli introiti che non ha senso quindi magari la andiamo a regolarizzare invece che 8.87 la la porta 8.75 non sarà molto approvata dagli ambientalisti però vabbè togliamo o meglio diminuiamo le tasse per i turisti che entrano questo dovrebbe aiutare il nostro settore del turismo perfetto poi tassa sull'industria pornografica invece e andrei ad alzare le tasse su questo cioè non che ci faccia guadagnare tanti soldi però no vabbè dai arrotondiamo allora arrotondiamo in realtà così costerebbe meno vabbè facciamo un 30% e vediamo com'è com'è la reazione a queste cose qua diminuirei anche i costi dei contributi previdenziali a carico delle aziende tra l'altro ok non è andata così male pensavo peggio operazione il califato jihadista agenti infiltrati oh che bello sì fate tutto quello che dovete fare ok potremmo avere un informatore in Algeria sì provate ad avvicinarvi provate ad avvicinarvi all'informatore può essere utile può essere decisamente utile come cosa poi andiamo a regolare ancora un po' di tasse ragazzi tasse di immatricolazione sui veicoli ma caspita ci sono di quelle tasse ragazzi diminuiamola leggermente con tutte queste diminuzioni ragazzi sto andando a favorire magari anche di poco le varie industrie alla fine vedete che ci perdiamo pochi soldi ma comunque un minimo potrebbe agire sull'economia un minimo potrebbero agire sull'economia queste azioni quindi può avere un senso secondo me stessa cosa vale per i vini la tassa sui vini ok perfetto la portiamo allo 0,03% tassa sui liquori la portiamo all'1,25 io li controllo tutti ragazzi così almeno buono e anche qua le reazioni non mi sembrano non mi sembrano eccessive esagerate rete libia avvistamento del bersaglio ministeriale butros el gabira ok anche qua possiamo cercare di avere un infiltrato e molto bene in libia direi che ci serve ancora più che in algeria come cosa quindi ne sono più che contento un'altra cosa a cui volevo aggiungere i fondi ragazzi non so se l'ho fatto è la sicurezza del capo di stato devo averlo già fatto ma mi piacerebbe aumentarla ulteriormente non appena fosse possibile il fatto è che costa un'ira di dio cioè guardate anche voi cioè se lo volessi ampliare al massimo cioè aumentare al massimo costerebbe 5 miliardi considerando che i nostri eccessi sono di 8 miliardi mi sembra un po' tanto per ora però vabbè in ogni caso facciamo andare il tempo e continuiamo a regolare la tassazione ragazzi allora torniamo giù passo su licorifatto prodotti petroliferi questa ci potrebbe portare già un po' di soldi infatti infatti l'alzerei leggermente questa 0,44 centesimi almeno qua ne segna solo una di tassa ragazzi noi tutt'oggi paghiamo ancora la tassa sulla guerra in abissinia miseria nel petrolio nella tassa del petrolio cioè è allucinante tassa sul risetto aziendale uh questa qua costa un po' abbassiamola ulteriormente però vediamo un sondaggio vediamo un sondaggio mi sembrano abbastanza favorevoli solo avranno un sacco sulle tasse come potrete ben notare transazioni finanziarie tassa sulle società questa la diminuirò ulteriormente ma non adesso contributi previdenziali a carico delle aziende urca se costa 26 facciamo che andiamo poco alla volta andiamo poco alla volta bene facciamo così un altro migliardino che scende poi tassa sulle armi questa invece l'alzerei però dobbiamo stare attenti perché più le tasse sono alte più favoriamo il mercato nero quindi dobbiamo starci molto attenti magari 100 è addirittura eccessivo considerando che ora come ora è 85 io la arrotonderei a 90 è buona oddio in realtà anche 85 tanto non è che siano sti grandi introiti magari la basso addirittura a 80 vediamo l'opinione perfetto tassa sugli audiovisivi 100 euro chissà se è il canone Rai questo vediamo uh questa ha un costo davvero molto alto facciamo che la portiamo a 80 ragazzi vi sto diminuendo il canone Rai siate negrati vediamo un po' perfetto così teoricamente abbassare la tassa sugli audiovisivi porta anche a un maggiore acquisto per l'appunto di audiovisivi quindi non mi sembra una brutta cosa imposta sulle entrate avevamo già regolato un pochino io diminuirei ulteriormente magari la classe media arrotondiamo a 35% e anche i ricchi porterei a un 40% oddio non è che sia molto ben vista come cosa tasse bassa categoria bassa 23% mi sembra comunque non altissima mi sembra decente magari facciamo così 35-42 così i ricchi ci favoriscono un pochino 2 miliardi sono tanti ragazzi però lo farei anche lo farei anche magari facciamo un passo alla volta 35-42 e 42,5 imposta sul valore aggiunto quindi sull'IVA la lasciamo così tassa sui diritti di successione questo a sto punto la arrotonderei a 30 non ne saranno molto contenti gli anziani però afemo afemo 30% è tanto ragazzi e serve appunto per evitare che le ricchezze si concentrassero in poche famiglie è tanto 30% però ci fa entrare ancora un po' di soldini considerando che ho ridotto tante altre cose direi che è accettabile esemplarità sono voluto sono voluto venire a parlarvi personalmente ministro poiché ritengo che in questi tempi difficili per molti dei nostri concittadini dovreste mostrare la vostra solidarietà riducendovi il salario ma l'ho fatto dannazione o non l'avevo fatto in questa partita non lo so non lo so vado vado a controllare no ma me l'era arrotonnato a solo 40.000 al mese cioè vivo come un povero caspita cioè per essere un presidente alla fine prendo 480.000 euro all'anno non è neanche così tanto no beh ragazzi è tanto però ah buono riduciamo ulteriormente lo stipendio del presidente a 35.000 lo ridurrei a 39.999 della serie l'impegno c'è non l'ho diminuito di tanto però potete notare che l'impegno c'è però mi sembrerebbe troppo presa per il culo quindi dai vabbè facciamo un passo alla volta 37.500 e voilà operazione del califato jihadista smantellamento parziale dell'organizzazione oh grazie grazie davvero quando verranno votate le riforme sulle tasse a partire dal 21 quindi da oggi oh bene speriamo che passino tutte dovrebbero aiutare un po' la nostra economia l'inflazione allo 0,26% dobbiamo starci attenti eh ragazzi è passata la tassa sui turisti perfetto ok adesso poco a poco passeranno naturalmente passeranno tutte nel frattempo mentre aspettiamo che ci arrivino tutte le notifiche che le leggi passano o non passano perché potrebbe succedere naturalmente vediamo di organizzare degli altri incontri ma non avevo incontrato anche quello finlandese perché mi segna che non ho diminuito gli interessi che pago oh ah ah vabbè vediamo di rincontrarli riusciamo a farlo il mese prossimo sì penso di sì penso di sì ok e vediamo di incontrarli tutti perché hai messo in pausa in automatico non si fa ragazzuolo non si fa addirittura ad aprile non me lo fa incontrare prima ah ma stavo organizzando per per aprile ragazzi quindi niente mea culpa quando diavolo ho messo l'altro allora quando diavolo l'ho messo eh l'ho messo ad agosto ma tu dimmi ma tu dimmi col cavolo ti voglio vedere a maggio altro che ad agosto ma sei fuori pazzo ragazzi è pazzo non capisce niente questo qua quando fa questo questa cosa qua in automatico mi girano molti coglioni tassa sull'inquinamento industriale diminuita ah quello giapponese lo incontriamo il 2 poi a chi tocca tocca anche a quello del regno unito c'è il mio gatto che pigola fuori dalla stanza perché ho chiuso la porta poverino eh vabbè micio te devi arrangia te devi arrangia perché ti lascio fuori adesso che sto facendo una cosa molto importante diminuendo il nostro il nostro debito pubblico quindi più importante di così si muore et voilà et voilà ci siamo quando fesso gli appuntamenti il tempo si mette in pausa è una cosa che mi urta profondamente devo dire sono molto curioso di vedere come che cambiamenti ci saranno entro il mese prossimo tassa sull'immatricolazione dei veicoli è passata cioè la diminuzione sono state tutte diminuzioni praticamente quindi dovrebbe anche il popolo dovrebbe essere contento affare concluso oh bene abbiamo messo una somma sul conto in svizzera di questo del ministro del lavoro libico e adesso saremo informato su tutte le operazioni segrete del suo paese questo vuol dire che appena fanno qualcosa di non buono noi pam con cattiveria con estrema cattiveria dovremmo anche lavorare su sull'equipaggiamento del nostro esercito ma non è questo il momento in ogni caso potrei cominciare a mettere a posto con con razzi e missili magari prendo ancora un po' di missili e rado costano un sacco i missili facciamo così allora boom mettiamo l'obiettivo un po' più alto e voilà e voilà sono passate giusto un po' di tasse allora quella sulle indennità non ce la faccio ragazzi quella sulle indennità minime di solidarietà è passata passata quella sull'industria pornografica sit-in contro la politica d'assistenzialismo del governo davvero ma quanti siete 337 fronte liberale sindacato dei professori e dei ricercatori ha deciso di rompere le balle bah leggero calo della grande povertà la miseria 29% dei nostri cittadini ma davvero no ragazzi ma io non ci credo no no non è qua popolazione urca popolazione sotto la soglia di povertà relativa in percentuale segnal è davvero così alta ragazzi 30% ce l'abbiamo diminuita di molto ma caspita allucinante è allucinante come cosa wow non me lo sarei aspettato vuol dire 3 su 10 ragazzi è tanto è davvero tanto se non oserei dire troppo no non siamo riusciti a corrompere l'algerino dannazione non ce l'abbiamo fatta come dimostrato da stanwich accade che if it's 3 meno ab per p uguale 0 gr ok in ogni caso non ha accettato di diventare una nostra spia il ministro libico è passata la legge sui licenziamenti quella sul riassetto aziendale quella sui prodotti petroliferi è finito il sit-in molto bene e adesso finirà anche il mese perfetto legge sul pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è passata passata anche la nuova imposta sulle entrate prevenire le tensioni non ci offre le garanzie di libertà e di sicurezza necessarie abbiamo bisogno di un forte segnale per assicurare e prevenire la formazione di pericolose voragini nella nazione a questo punto mi viene da vedere le religioni stabilisci il potere di stato rispetto alle religioni statuto speciale riferimento della costituzione alla religione ufficiale davvero? ma col cavolo governo laico ragazzi governo laico tutta la vita ok andiamo andiamo a fare così decisamente livello di libertà religiosa libertà completa non c'è nessuna religione proibita quindi wow ne abbiamo 2 milioni ortodossi pure protestanti meno di un milione cattolici 48 non penso che siano in così tanti cattolici penso che ci siano molti più altri ora come ora però non ci metterei una mano sul fuoco l'inflazione sta continuando a salire eh ragazzi dobbiamo dobbiamo starci attenti 0,36% in compenso il valore dell'euro rispetto al dollaro cioè l'euro ha preso valore rispetto al dollaro abbiamo un'eccedenza di PIL comunque molto alta il nostro debito come potete ben vedere sta scendendo e anche quello aiuta aiuta molto dovre fatemi vedere un po' eccedenza di bilancio 8 miliardi davvero non male il 2,51% del nostro PIL serve per ripagare il debito è tanto ragazzi sono soldi che potrebbero entrare potrebbero essere spesi ed è per quello che continuo a incontrare i prestatori adesso poi non vi farò vedere mettere l'incontro perché mi sembra mi sembra un po' inutile un po' uno spreco di tempo oserei dire però però lo devo fare vediamo un po' sulla popolazione popolazione è scesa la povertà la sì quella ok comunque sta scendendo sta scendendo ma è davvero altissima ragazzi l'indice di sviluppo umano è sceso un po' a quanto pare e la crescita della popolazione è bassa davvero molto 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 bassa tasso di natalità salito leggermente però non mi sembra così alto tasso di fertilità pure felicità interna lord è da quando ci sarebbe borgia ragazzi è salito tutti sono più felici e ci mancherebbe anche ci mancherebbe anche il pile è aumentato di 450 euro il pile medio e direi che non è male ma la cosa più importante e lo so è questa no in realtà sembra che la nostra economia stia attraversando sono a fase di discesa al momento vabbè vabbè ok ok ragazzi è passata un'altra legge la legge sul salario del capo di stato buono ok ragazzi sono riuscito a trattare con tutti i nostri prestatori ho fatto diminuire a tutti dello 0,25% gli interessi non male poco alla volta ragazzi ce la faremo è passata la legge per l'imposto sui vini ottimo e anche quella sulle armi ne mancano ancora molte non ricordo sinceramente sì c'è da votare appunto quella la regolarizzazione degli immigrati clandestini che è passata passata anche la legge sugli audiovisivi e adesso ne mancano uno, due, tre diritti di successione imposta sui liquori e stabilisce il potere dello stato in relazione alle religioni questa sono curioso di vedere quale sarà il risultato sinceramente una cosa ragazzi che andrò a fare adesso probabilmente sarà cercare di stringere altri contratti per la nostra industria infatti stranamente questa volta prima mi occuperò dell'industria e poi farò l'agricoltura nel frattempo i contratti sull'agricoltura non li voglio non li voglio andare a fare perché più che altro se no mi perdo ragazzi preferisco prima fare tutti quelli industriali e poi tutti quelli dell'agricoltura andiamo un po' alla volta e poi dovremo pensare anche ai sussidi e fatemi sapere cosa ne pensate voi ultimamente sto adorando questo quando voglio far far crescere dei settori quando li creo da zero di solito li faccio non totalmente sotto il controllo dello stato ma li faccio con la partecipazione dello stato come azionista di minoranza in modo che riusciamo li finanziamo prendiamo parte degli introiti dei profitti però in ogni caso è privato e secondo me può essere una buona opzione adesso non lo voglio fare sull'abbigliamento naturalmente era giusto per farne vedere una ok adesso veloce riesco a firmare qualche altro contratto e poi vi faccio sapere ok ragazzuoli sono passate ancora un po' di leggi è passata la tassa quella sulla tassa dei diritti di successione che ci fa entrare un po' di soldi processo Cesare Viti che liberazione ci siamo primo ministro il tribunale ha condannato Cesare Viti ed ecco il verdetto una pesante ammenda gli effetti sulla popolarità di Viti sono stati immediati sia tranquillo per il momento il dirigente dell'unione dei lavoratori ferroviari è out e non ho capito devo esserne contento non capisco i pro di questa di questa cosa qua vabbè in ogni caso ragazzi sto trattando con India e Messico come potete ben vedere effettivamente potrei anche incontrarli adesso se non riesco a stringere degli accordi con loro al primo contratto incontrerò di sicuro quello indiano e quello messicano perché questo ragazzi perché allora sto cercando di vendere dell'acqua in India e sappiamo bene quanto gli serve in India poi sto cercando di comprare dei pezzi per le costruzioni di automobili dagli indiani e pezzi per la costruzione dei veicoli utilitari dal Messico teoricamente questo lo sto facendo perché non posso ancora spingere la nostra nazione a produrre quello che gli serve ma penso che anche un successo completo di questo sarebbe abbastanza impossibile quindi se riesco a ridurre i prezzi a cui importiamo le materie prime o comunque le materie per costruire non può essere che una buona cosa cioè senza altra una buona cosa ok ragazzi è passata la legge per l'imposta sui liquori anche bene e adesso stavo venendo un'altra cosa perché vedete io guardo sempre le info dell'industria e adesso probabilmente cercherò di acquistare dagli indiani costruzioni di automobili costruzioni di edifici magari e di plastica non so se queste due sono economiche da loro però comunque posso guardare e stessa cosa in realtà vale anche per cemento comunque tutte queste cose qua acciaio penso che lo potrei comprare dalla Cina infatti fisserei un appuntamento un incontro anche col primo ministro cinese se non altro perché così magari migliorò anche un po' le relazioni ok ragazzi sono riuscito a stringere un contratto commerciale per la vendita di acqua in bottiglia all'India speravo di vendergliene 1500 purtroppo sono riuscito a vendergliene solamente 700 quindi avremo ancora dell'eccedenza da vendere a qualcun altro in ogni caso i profitti sono buoni con questo accordo e è un'ottima cosa adesso vediamo se invece riusciamo ad acquistare un po' di roba tra l'altro se vedete che l'India è grigia è perché non ve l'ho fatto vedere l'ho tagliato quel pezzo ho cercato di fare un patto di un'aggressione con l'India hanno detto di no e boom sono diventati grigi mi sono preso malissimo mi dispiace un sacco non me l'aspettavo devo dire che non me l'aspettavo assolutamente ok ragazzi sono riuscito a stringere un accordo commerciale per l'acquisto di costruzione di automobili dall'India davvero vantaggioso ci risparmieremo una barcata di soldi guardate qua il contratto ho come al solito compro leggermente meno rispetto a il nostro fabbisogno quindi rispetto al deficit di produzione e consumo nostro perché nel caso in cui la nostra produzione aumenti comunque non voglio che non venga venduta perché ne compriamo di più economica dall'estero in ogni caso adesso fra poco dovrebbe apparire qua di fianco questo questo nuovo contratto e potremmo vederlo contratto numero 26 con l'India congratulazioni sì peccato che sono riuscito come un idiota a peggiorare le relazioni anche se ho stretto due contratti ottimi davvero davvero ottimi guardate qua stima dettagliata prezzo particolarmente basso e ci garantisce una grande parte dell'approvvigionamento di cui abbiamo bisogno è un ottimo contratto ed è anche abbastanza buono anche quello dell'acqua in bottiglia del vero perché comunque è particolarmente redditizia la cifra a cui gliela vendiamo e quindi non è per niente male vediamo se riesco a comprare dai messicani anche un po' di veicoli utilitari adesso probabilmente ragazzi farò come avete consigliato voi ovvero prima di andare avanti adesso non lo farò in questo video perché questo si concluderà a breve però in compenso poi penso che mi farò una lista di tutti i prodotti che si trovano nella nostra industria e anche nella nostra agricoltura guarderò i possibili compratori i possibili venditori per quei prodotti e poi farò direttamente degli incontri con i vari capi di stato in modo da riuscire a stringere un po' il tutto perché effettivamente se continuo con i contratti così a distanza non ce la farò mai l'allargamento del G7 alla Russia questo è l'ordine del giorno per il prossimo summit la vostra presenza ovviamente è necessaria oh mio dio va bene va bene verremo agenti infiltrati nella mafia italiana vai vai è così che si fa è così che si fa tra l'altro fatemi vedere un attimo l'ONU vediamo se chiediamo di diventare membri permanenti sapete che è una cosa che faccio sempre perché l'essere membri permanenti dell'ONU non ti para il culo ragazzi di più ti para davvero molto il culo e ok nel prossimo video avremo anche un incontro con il presidente della Cina e c'è da continuare anche l'accordo qua col Messica in ogni caso ragazzi io direi che ci stoppiamo qua spero sinceramente che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando non dimenticatevi di lasciare qua sotto un bel mi piace ed iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti oltre a questo vi ricordo anche che se condividete il video e la campagna con amici mi fate un favore perché permettete anche a più gente di conoscere i miei video e il mio canale vi consiglio di dare un'occhiata alle altre campagne se ancora non le avete viste ce ne sono davvero un sacco su Geopolitical Simulator e ce ne sono ce ne è anche una su Democracy un altro simulatore geopolitico tra l'altro se volete supportarmi vi ricordo che potete farlo tramite affiliazione su Instant Gaming Kinguin o su Amazon per dei pezzi del PC che trovate qua sotto i link in descrizione e l'affiliazione vuol dire che voi fate un acquisto con quei link quindi facendo qualcosa che fareste comunque perché vi serve perché volete farla e io ricevo una commissione per l'acquisto quindi mi supportate indirettamente sia che lo facciate sia che non lo facciate ragazzi io vi aspetterò nel prossimo episodio naturalmente e nel frattempo a tutti e a presto grazie a tutti